Arezzo tornerà ad avere un comitato provinciale del centro sportivo italiano. Tante le realtà che stanno collaborando per il rilancio locale del CSI, tra le quali anche la pastorale giovanile diocesana e il comitato aretino di Special Olympics Italia. Un programma ricco che spazierà dalla promozione sportiva alle tematiche sociali, dove fondamentale sarà il coinvolgimento delle parrocchie. Mentre proseguono gli incontri per stabilire una struttura definitiva, intanto il prossimo 16 febbraio, in occasione del Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano, per Arezzo sarà presentato Paolo Casalini come commissario straordinario. Dobbiamo partire a piccoli passi, siamo piccoli e dobbiamo ricominciare a crescere piano piano. Cercheremo supporto presso le parrocchie, cercheremo supporto presso le persone che hanno voglia di darsi da fare anche all'interno dello sport. La sua esperienza maturata negli anni nel campo del rugby le sarà d'aiuto? Speriamo che mi serva in questo senso. È un'esperienza maturata in un ambiente sportivo. Personalmente ho anche un'esperienza nel mondo dello scautismo, per cui i valori di base sono sempre quelli, per cui li mettiamo a disposizione dei ragazzi. Il CSI di Arezzo è una grossa tradizione, per cui vorremmo ripartire da questa tradizione per un rilancio vero. Per quanto riguarda la presidenza regionale vogliamo molto investire su questo territorio, con una presenza costante, anche promuovendo in questa provincia una serie di iniziative sportive, polisportive, anche di interesse regionale.